Io non so se vi siete mai innamorati, penso di sì qualche volta, no? Quando voi entrate in una storia d'amore, poi uscite fuori, il vostro io non è più quello di prima, è stato modificato da questa storia. Platone ce lo spiega bene e non ve la sto a spiegare a voi. Però nel simposio è scritto che l'amore è un rapporto con la nostra parte folle, che noi possiamo entrarci alla sola condizione che l'altro ce l'abbia rivelato e ci accompagna la parte folle. Quando uno fa il viandante è costretto a conoscere dalla gente diversa da lui. Quando torna lui non è più quello di prima. Allora qual è lo scopo del viandante? Non è raggiungere la meta, ma raggiungere un io diverso rispetto a quello che è partito, a conoscere un altro aspetto di sé che prima neanche sospettava di essere e di avere. Questa è la meta del viandante. Se vogliamo parlare dal punto di vista del vantaggio, perché noi capiamo solo queste cose, no? È una grande trasformazione fare il viandante. Andiamo!